Ciao a tutti ragazzi, io sono Steve e ci troviamo in questo nuovissimo video di Minecraft con nessuno nessuno e dovremo fare 100 zombie no, si 100 zombie contro un golem però prima facciamo un vabbè, comunque vi farò vedere e iniziamo subito ok raga, siamo pronti ok, siamo tutti perché poi c'è la pioggia aspettate solo notte deve essere meteo, mettiamo mi sa che, aspetta ok mi sembra, ok, abbiamo tolto la pioggia allora mettiamo il golem contro lo zombie mettiamo anche da qua sanno tutti che è più forte ecco, l'ha fatto volare anche ok un golem contro 10 zombie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 vediamo vediamo che è più forte vediamo, vediamo raga perfetto perfetto li sta sciottando tutti mamma mia raga tutti li sta sciottando ok raga ha distrutto tutti questo golem è fortissimo ok ora distruggiamolo perché dobbiamo fare una spada forte ok puliamo tutta sta sporci ok ragazzi 100 zombie li ho contati bene si però vabbè appena metto il golem quindi vediamo che è più forte ora liberiamo gli zombie ok e vediamo raga se un golem riesce a distruggere tutti i 100 zombie ragazzi ce la fa il golem ma siamo sicuri cioè ma è quasi impossibile tra poco anche l'haga ok vediamo se il golem riesce facciamo facciamo tre golem che qua mi sa che non riesce quindi facciamo tre golem ok raga tre golem facciamo ho fatto anche le mura aspettate facciamo anche le mura perché se no scappavano e il golem poi li buttava anche fuori ok raga tre golem contro 100 zombie via all'attacco guardate come li sta già combattendo tutta l'orda va aspetta ma ho visto uno zombie ah ecco uno zombie piccolo guardate come li lancia ok tre golem contro 100 zombie un golem mi sa che è morto raga ah no non è morto è morto i zombie sono tutti là i golem guardate come li picchiano i zombie tutti là sono mamma mia guardateli 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 tutti che volano bravi vediamo quanti riescono a resistere non guardatemi a me sono io vediamo vediamo mamma mia guardate raga tutti che volano bravi bravi sono 100 zombie eh ok vediamo vediamo lo stanno chiudendo all'angolo vediamo quanti gole riescono a 6 gole riescono a resistere a 100 zombie mamma mia tutti i zombie che volano un golem mi sa che è morto aspettate sono morti tutti i golem quindi 3 non bastano a distruggere chissà se metto altri due golem mi sa che aspetta e se mettiamo un altro golem raga che succede vediamo vediamo se il golem riesce a distruggere tutti tutti i zombie rimanenti sono tanti mi sa che sono più o meno una una sessantina da occhio boh boh forse 40 boh oh non zombie è andato ok vai via oh guardate come l'è sciotta bravo bravo tutti i golem dai golem che ce la fai bravo bravo lo stanno chiudendo all'angolo eh bravo dai dai distruggeli distruggeli mamma mia guardate come lo picchiano mamma mia bravo golem l'hanno chiuso proprio dentro dentro vediamo che ok non ce l'ha fatta il golem vediamo un altro golem se ce la fa vediamo vediamo raga vediamo se ce la fa ancora il golem mamma mia raga ma sono tantissimi non so se riesce a distruggeli tutti eh vediamo vediamo raga lo stanno chiudendo all'angolo dai distruggeli cinque forse già cinque golem riescono a distruggere cento zombie sono cento giusti zombie vediamo raga ah tutto mi guarda lo spettacolo bravi 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 distruggeli tutti i golem ce la fa il golem secondo voi guarda che il golem ha più o meno cento vita più o meno non lo so cinquanta ok non ce l'ha fatta ancora no sto spaccando aspettate ok ancora non ce l'ha fatta cinque golem non riescono a distruggere cento zombie qualcosa oppi mi sa che ho buccato ok via vediamo se il golem riesce a distruggere tutti i zombie rimanenti ma raga ma sono tantissimi qua ci mettiamo un'ora cioè dai bravi bravi piccolini madre mia guardate come è sciotta vai non li stai sciottando ok uno che l'ha fatto volare ed è morto precipitato bravo golem vai lo stanno chiudendo all'angolo bravo golem il shot in un colpo raga è forte il golem alcuni però mi sa che uno si uno riesce a sciottarlo in un colpo e l'altro no ok non c'è riuscito ancora quindi sono sei golem quindi questo è il settimo golem ce la fa vediamo se il settimo golem riesce a distruggere tutti gli zombie bravo golem vai vediamo 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 abbiamo forse scopriamo che ma guarda raga forse mi sa che sono rimasti 30 zombie bravo golem guarda sciottoni tutti vai vai bravo golem da tutte le parti c'è non ce la fa il golem mi sa no non ce l'ha fatta ok allora l'ottimo golem cioè l'ottavo golem l'ottavo golem vediamo se riesce a distruggere secondo voi perché è fatto buio perché se no li zombie si vabbè vabbè vediamo aspettate mettiamo notte intanto ora mettiamo mezzanotte ok vediamo se il golem riesce a distruggerli mi sa che sono una ventina forse 25 zombie forse ah l'ha distrutto lo zombie vediamo altri due golem quindi facciamo 10 golem in tutto 10 golem forse riescono a distruggere 100 zombie raga vediamolo subito vediamo dai golem vai 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 raga vai 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 10 golem forse riescono a distruggere 100 zombie vediamolo subito raga lo vediamo subito bravi 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 guarda mi sa che sono rimasti più o meno 5 zombie 3 zombie 2 1 1 è morto 1 zombie non ci credo 1 zombie è riuscito a sopravvivere 1 zombie non ci credo ora per te però tu mori ok 1 colpo quindi ragazzi ho scoperto che 10 golem riescono a distruggere 99 zombie e 1 è riuscito a essere sopravvissuto e poi l'ho eliminato con un colpo di spada comunque è stata un'esperienza molto non lo so vabbè comunque non sapevo che vabbè comunque ho capito che almeno 99 zombie c'è 1 doveva arrivare mamma mia non 2 1 1 zombie doveva sopravvivere 1 e quindi e per questo vi è finito ricordate a me mi piace se non l'avete ancora fatto condividete il mio canale con i vostri amici e noi ci possiamo vedere la prossima volta ciao ciao ora però devo pulire tutto sto macello